Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri oggi preparo insieme a voi la mia colazione preferita è una colazione molto nutriente, gustosa che io preparo di solito per due giorni, tre giorni di seguito quindi il lavoro che faccio oggi mi servirà per avere pronta la colazione per questa mattina e anche per domani mattina gli ingredienti sono uno yogurt bianco magro delle mandorle dei semi di zucca qui adesso ho messo granella di nocciola o comunque nocciole intere una noce e dei fiocchi d'avena integrali e poi frutta a volontà in questo caso frutta di stagione quindi metterò un'arancia, una mela e un kiwi e poi Grazie a tutti. Dopo che tutto sarà ben mescolato ed amalgamato, procedo a mettere nella mia tazza per la colazione la dose del giorno. E conserterò in un altro contenitore quello che mangerò il mattino successivo. Adesso vado a fare la colazione. Ciao, alla prossima!